Prima di cominciare con il video ci teneva a dirvi che sarò presente all'Etna Comics dal 31 maggio fino al 3 giugno 2018. Inoltre il 2 giugno alle ore 10 farò una conferenza che tratterà anime come passione ed ispirazione. Mi raccomando ragazzi partecipate in tanti, ce ne saranno delle belle. Inoltre ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti oppure direttamente su Telegram se sarete presenti in modo da poterci organizzare. Potremo vederci, fare una foto, stringerci la mano e tante altre cose. Ciao a tutti ragazzi, io sono Ferraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi, sempre con la solita nuova inquadratura che mi sta piacendo un sacco, faremo una top 5 delle migliori mod di Xenoverse secondo me. Ovviamente non sono le migliori in assoluto ma sono semplicemente delle mod che mi piacciono tanto e che ultimamente appunto sto giocando e che comunque appunto come ho già detto prima mi piacciono. Le mod sono sia mod nuove che mod vecchie. Dato che ultimamente vi sono fatto un giro tra le varie cartelle che avevo di Xenoverse ho trovato qualche vecchia mod che è veramente molto figa. Detto questo ragazzi, prima di cominciare il video volevo chiedervi alcune cose. Prima di tutto vi ricordo che c'è un contest di Fortnite in corso dove i vincitori potranno ottenere appunto un pass battaglia gratis. Lo troverete probabilmente nelle schede, non ricordo dove è lato ma nel loop indico entrambi i lati. Inoltre ragazzi, inoltre volevo ricordarvi che a breve uscirà una nuova versione del pack Super Multiverse dove verranno introdotti nuovi personaggi tra cui quelli dell'ormai cancellata serie di Dragon Ball Super Multiverse, probabilmente quella richiesta della quale vi parlavo in qualche video fa ed inoltre altri personaggi che sono molto fighi. Un'altra cosa che vi chiede di andare a supportare è il video del pack, dato che purtroppo non è andato un gran che. Ed inoltre, se volete, di fare delle domande con l'hashtag FuckFeraz o FuckGameStrong, dato che sono con un amico, per delle domande alle quali risponderemo nel video, ovviamente comparirete o comunque verrete nominati. E niente ragazzi, detto questo direi di cominciare. Al quinto posto troviamo Panla, una mod fatta da Makoto Mods e contenuta nel Fusion Pack numero 7. Una mod a mio parere è veramente molto figa, ce ne sono di diverse, di Brapan o Panla, chiamatela come volete. Sinceramente non so quale sia la pronuncia o comunque il nome giusto. Preferisco Brapan anche se è un po' più scontato, anche se purtroppo penso che Panla sia quell'originale nome proprio dato in Dragon Ball Functions. Quindi ragazzi non lo so. Quello che ci interessa però è che la mod è veramente veramente molto figa e fedele. A mio parere è una delle migliori appunto del personaggio. Un'altra cosa ragazzi non contiene purtroppo delle skill custom, dato che è stata fatta appunto agli inizi del modding di Xenover, se non ricordo male. O comunque il modder non ha voluto introdurle nella mod, non ricordo bene ora. Probabilmente troverete del gameplay in sottofondo mentre che ho parlo, non so bene come editerò il tutto. Però comunque questa è la mod, spero che vi sia piaciuta, ecco. Secondo me si merita il quinto posto. Al quarto posto troviamo Future Gohans. Una fusione tra ovviamente Gohan, non ricordo bene sei del futuro o normale, e Trunks del futuro, ovviamente preso da Dragon Ball Super. Inoltre ha una cosa che a mio parere è veramente molto figa, infatti ha la spada Genkidama appunto, quella blu, che brilla e veramente molto figa. Il design mi piace un botto, ed inoltre ha la trasformazione in Super Saiyan Blue. Nella scritta è scritto Super Saiyan Blue 2, ma comunque tra 1 e 2 non cambia tantissimo. Ha qualche piccolo problemuccio, come ad esempio purtroppo la spada che non ha delle texture fantastiche, dato che è un po' pagatuccia. Però in sé è veramente una mod molto figa. Non contiene delle skill custom, come la mod di prima, però ha un moveset abbastanza interessante e bilanciato. Principalmente effettivamente ispirato un po' a quello di Gohan, però ci può pure restare, essendo che Gohan in effetti ha istruito Trunks. Si merita la quarta posizione soprattutto per il design, è ben fatta, tranne quel piccolo problema della spada, e penso che sia una mod che dovete assolutamente scaricare. Al terzo posto troviamo Vegeta God of Destruction. È una mod veramente molto interessante, con un concept veramente bello. Ha qualche piccolo problema, come ad esempio qua sul collo, che praticamente tutto si compene nel modo molto strano, un bug facilmente risolvibile, ma che non hanno risolto, però ci può stare tranquillamente. Come potete vedere è trasformato in Super Saiyan Blue Evolution e ha un design veramente veramente figo. Non è stato realizzato proprio al meglio, poteva essere realizzato molto meglio. Infatti il portrait, prima di tutto, è abbastanza brutto. Alla fine è un Vegeta Blue saturato, con una sorta di collareda di realizzazione che non è neanche tanto fedele. Però tutto sommato resta un'ottima mod. Contiene delle skill custom e finalmente direi. Infatti ha diversi attacchi, tra cui il Blue Lancer, che appunto è una skill simile al lancio della ribellione, ha la supernova Vegeta e una skill evasiva chiamata Destruction Meteor. Veramente molto fighe come mod, le skill sono veramente molto fighe, soprattutto della supernova, perché la vedo bene sul Vegeta, quindi ci può stare tranquillamente, essendo comunque molto simile alla scelta della distruzione, penso che ci sia molto. Niente ragazzi, soprattutto con il fatto che un Vegeta al God of Destruction sia molto possibile, ed essendo che utilizza Super Saiyan Blue Evolution, che a me è piaciuto molto, beh, si merita di stare al terzo posto. Ma detto questo, passiamo alla prossima posizione. Va bene bro, ci penso io tranquillo, metto Jin anche se non mi è piaciuto tanto. Cazzo, stavo già registrando, ti saluto masco, ti faccio sapere se metto una mod. Ok, sì, sono low budget, usano un telefono vecchio, perché sto registrando col telefono nuovo, però dettagli. Cazzo da parte, al secondo posto troviamo Jin, di Masco, il dio della distruzione di... Che universo è? Tralasciando le cazzate, al secondo posto troviamo Jin, il dio della distruzione dell'universo 12. Ovviamente fatto da Masco, che ha fatto veramente un ottimo lavoro. Diciamo che forse l'unico problema di questa mod è la shading, che Masco, madonna santa, non fa mai uno shading appunto molto simile a quello del gioco, ma utilizzo una sua versione un po' custom, che personalmente non mi fa impazzire. Magari ad altri piace, ma preferire appunto lo shading originale. Il fatto però non toglie che resta veramente un'ottima mod. E penso che se il canna bai ancora, lo lancio, lo lancio tipo lancio del gialletto, anche se non è il mio cane. Grazie. Ok, tornando a noi, questa mod ha una skill soltanto custom, ma vi assicuro che è veramente molto figa. Infatti è una sfera della distruzione modificata e con un'animazione custom. Il forte però di questa mod, come ho già detto prima, è il modello che è fatto veramente molto bene. Soprattutto i dettagli, quelli ad esempio le scuole del personaggio, di un'altra il personaggio è identico spiccicato all'originale. Personalmente mi piace molto la sua abilità nei modelli. Forse devi migliorare un po' i portrait, ma tutto sommato ci siamo. Veramente un'ottima mod che merita il secondo posto. E al primo posto troviamo una mod che sinceramente non ricordo se ho inserito già in qualche video, però merita di essere inserita ancora, proprio perché è qualcosa di fantastico. Vi dirò pure cosa mi piace soprattutto di sta mod. Allora, sto parlando della mod fatta dai Time Patroller, che appunto riguarda Giren e Gobultra Istinto. girano alla massima potenza e Gobultra Istinto completo. Ha pure la forma Omen, però dettagli. Devo dire che la mod, anzi il mini pack, è fatto veramente dal bio, con ingressi custom che sono fantastici ragazzi, qualcosa di assurdo, veramente molto fighi. I modelli sono ben fatti, girano un piccolo problema delle linee, infatti vediamo qua nel tetto, sono un po' strane, un po' spostati in auto se non ricordo male, però tutto sommato ci sta, è veramente ben fatto, mi piace molto Goku con la skill di trasformazione che è qualcosa di fantastico, probabilmente degna di uno sviluppatore di Xenoverse tra l'altro, è veramente molto figa, l'unica cosa che appunto a volte si può pagare, ma è una cosa talmente rara che non mi vado neanche di considerarla. Inoltre i portrait sono fatti veramente da Dio, sembrano appunto ufficiali, e Jiren, quella cosa che dovete dire incazzoso, è veramente una roba molto figa. Si merita il primo posto, soprattutto appunto per la quantità di skill custom, infatti, Goku Ultra Estinto, ha prima di tutto le skill normali del Goku Ultra Estinto completo, le 6 giocabili pure per i cac, se non ricordo male, e quindi utilizzabili da tutti. Poi ha pure l'onda energetica Sussultoria, che ci sta veramente da Dio, praticamente quella energetica che fa dal basso verso l'alto, cioè che si slancia dal basso verso l'alto, utilizza l'onda energetica. Veramente molto figa, ha diverse variazioni, tra cui un costume alla fine dello Z, che è la fileggina sulla torta. Inoltre, ragazzi, la trasformazione è qualcosa di fighissimo, quella vale praticamente altre tre mod messe assieme, è veramente qualcosa di fantastico. Jiren ha una sola mossa casco, ma vi assicuro che è qualcosa di fantastico, infatti usa proprio la sfera che utilizza in Dragon Ball Super per affrontare, per sconfiggere, finalmente, Goku Ultra istinto, non riuscendoci tra l'altro, però dettagli. È veramente qualcosa di fantastico, veramente ben fatto e fedele all'anime. Ragazzi, una mod, anzi, un mini pack che è qualcosa di fantastico, si merita sicuramente il primo posto, dato che ha in sé qualità dei modelli, qualità dei portrait, tutto di qualità, tutto ben fatto, quindi ragazzi, veramente un primo posto meritato. Ovviamente, ragazzi, niente da togliere agli altri mod presenti nella top, è semplicemente una cosa di gusto personale. Comunque ragazzi, la top finisce qua. Spero di fuori che vi sia piaciuto, fatemi sapere la vostra top personale delle vostre migliori 5 mod che state giocando ultimamente su Xenoblitz. Se giocate con le mod, se non giocate, magari mi dite personaggi con i quali state giocando online. Anche se proprio quello online faccio scritto, non lo tocco da mesi, anzi da un anno tipo, però dettagli. Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like al video, commentatele, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi a casa, anche se non lo è fatto, e attivate la campanella per avere tutte le figure dei video, entrate nel gruppo Telegram, nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione, potrete vincere delle modi se sarete tra i più attivi. Inoltre ragazzi, probabilmente farò più o più qualche iniziativa che riguarderà appunto poter parlare tranquillamente fare una cacchierata tra di noi su Discord dove magari mi prendo una mezz'oretta o non avrete a parlare con voi. Inoltre ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace alla pagina Facebook e a seguirmi su Instagram, non pubblico tantissimo, però quando c'è un'emergenza o un problema vi faccio sapere tutto su Insta, poi magari ora voglio iniziare a pubblicare qualcosa di più e a fare dei sondaggi per coinvolgervi. Un'altra cosa ragazzi, vi ricordo che sarò presente all'Etna Comics dal 31 al 3 giugno. Il 31 non so bene quando sarò presente, penso o di pomeriggio o direttamente dalla mattina ma starò penso fino a tardi o comunque starò abbastanza presente. L'1 giugno starò in giro tutto il giorno per la fiera anche se sarò impegnato per organizzare la conferenza quindi magari potremmo incontrarci penso dopo pranzo. Inoltre poi il 2 giugno, vi ricordo che è pure il mio compreanno quindi portate pasticci, no ovviamente scherzo ragazzi, tralasciando le cazzate il 2 giugno sarò presente dalle 10 in poi direttamente appunto nella YouTube Valley fare una conferenza di 45 minuti poi avrò il tempo magari per fare una foto stringere una mano a qualcuno. Poi il 3 giugno sinceramente non so quanto sarò presente. Spero tutto il giorno ma dopo 3 giorni di fiera magari mi prenderò solamente qualche oretta all'interno della fiera e poi tornerò a casa. Inoltre ragazzi non dimenticatevi di passare dal Padron di Masco perché appunto deve comprare la maglietta Pyrex purtroppo ragazzi se gli scippi non gli vanno bene ti do aiuto allo suo Teraz. A parte le cazzate ragazzi da supportare pure Masco che fa veramente delle ottime mod a breve nel Super Multiverse Pack potrete installare pure le sue dato che renderò sbloccato il pack e potrete installare qualunque mod all'interno del mio pack. Niente ragazzi detto questo noi ci vediamo in un prossimo video in una prossima live un saluto della fiera bella A parte le cazzate in una prossima live Grazie a tutti per aver guardato il video.